Ho visto di buona figura... AAAAAAAH! Madonna! Salve a tutti ragazzi, avete questo nuovo video, io sono Virianda E oggi sono qui con Outlast... Con i suoi amici Wistel Brewer Ecco, giocare amici Il mio clan Il mio clan Allora, devi fare questo Ah, una nuova partita, devo fare Vai, vai, vai Ok Perché si faceva l'altro? Folle No, sei pazzo? No, no, è normale Normale Ma i folli devono fare folle Perché col montaggio facciamo vedere che mettiamo difficile Esatto Giusto per avvantarci Capito Andiamo un po' Così hai... Come sei in pelle Come sei in pelle Monella 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 Ma come sei brutto? No, 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 no Giuseppe Simona Ma che scudo Mi possiamo fare questi riferimenti Oh, no, 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 no Una figa gigante Oh, no, 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 no E' una figa gigante Oltre, credo, sembra una figa Ben parlato di cazzo Ma stiamo partorendo? Ah, come... così nasce Gesù Il figlio di Giuseppe Simona 2 ore prima 2 ore prima però c'è brutto 2 ore prima era nero non mi conosci stai scettando con Giuseppe Suono tu non sai chi sono io tu non sai che sono un Dio non puoi chiare tasto non puoi reguere te li ballo prego eh prego c'è tipo si è accettato qualcosa di malvagio eh un castoro è strano non ha le sopracciglia le labbra sono strane va bene li ha serrate andiamo avanti sono tutti uguali sono tutti uguali voglio vedere pure quest'altra vabbè questa forza è un po' diversa sono tutti pelati sicuramente sono tutti pelati spasmi di lo sapevo che stava per succedere Giuseppe Simone ma no no non di nuovo no no stronze autoritari vabbè so cosa aiutami cercando di violentarmi stuprare stuprare ok abbiamo capito che quello è un pazzo noi siamo ancora più pazzi Simonelli ma donna mia ma sei un figurino ma donna mia ma sei un figurino ah già abbiamo capito che questo è il nemico che adesso diventa un demon e noi esatto e mangiare i gammati questa è tua ma suonisti mi scelgo che sono stuprato ma perchè se non lo abbia fatto non uccidono pure me esatto fai perché è bella questa parte ah vedi vado un cazzo alto non lo vuoi tagliare no non puoi tagliare boom ah ahia ah finito preciate ragazzi ci vediamo un prossimo video arrivederci ciao si vedrà si ah siamo tornati a due ore dopo giusto ah quindi adesso ci hanno infilato i tubi in bocca ma ci va bene ah non l'hanno fatto come quello di prima ci hanno infilato i tubi nella bocca del culo nel naso e ci stanno stuprando dei due orecchi ma quello e l'altro sono io nello specchio ah vede le fighe in mente ah esatto che vorrebbe chissà così Gesù 2 0 ma è diventato il piano è stato paranormal vabbè si è spinta la lucida figa la pagina di pilara la pagina di pilara la pagina di pilara la pagina di pilara avvocato eh l ma l'ho capito che che rischio di morire anch'io se non mi vado da qua beh se l'è maciolato perché c'era una telecamera là ma chi è che non lascia la telecamera ma io mi sto eccitando come un cane aspetta, non aprire quella porta, forse è meglio faccio vuodire chiamato fiorellino non aspetto altro questo sangue è muro? aspetta lo devo guardare ma stanno stuprando un gesù questo mi devo dire porca la puttana da chi c'era in qui? eh, volevo... trovarlo buongiorno nella sala sbagliata da dove è uscito questo che mi ha chiuso la porta? cercavo il bagno ma quello... oddio si sono dimenticato le mutande si è dimenticato le mutande si sta un fottutissimo lavandino, no? non è che lo uso c'è lavandino bravo ti puoi sentire? va bene ma tu sei il cattivo per mezz'ora non ho fatto un cazzo oh cazzo ma in Outlast non sapevo aprire le porte in Outlast ma lui lo riapri mi dobbiamo ricaricare la vita mi dobbiamo ricaricare la vita ci sta la maniglia eh guarda ma cretino devi andare di là e devi saltare eh non so che devi andare di là però oramai dobbiamo portare qui non so quello ok sei sa mutande? che ci vengono le mutande per stare un culo cioè la telecamera sarebbe tipo la scelta migliore tu dici ma io ti ehi vaffanculo sono bloccato sono bloccato non so come la portata è dovuta chiuderla che sei chiudata togli la telecamera togli la telecamera togli la telecamera togli la telecamera togli la capoccia togli la capoccia togli la capoccia oh telecamera vai ah giusto uccidiamolo uccidiamolo arrivederci sei stato tu arrubar grande l'abbiamo solo condannato a morte la magia che mi ha adesso ma adesso ah ma la porta chi cazzo è che la dice? qui ti entro ma dai più forte più forte prego grazie ma mi ha guardato di poco ma non c'è una sfida ma non c'è una sfida si è aperta la porta magicamente guarda hai visto ancora? no questo è un altro sei già lennon eh no conosco se germaia è da liar hai visto chi non lo conosce dalla liar si stanno studiando oi all'anamo non mi ha schizzato qualcosa sei di qualcosa al sangue ma si è avvicinato po' di più ma guarda che aperti vede mica le palle da buon no cosa si è mangiato? la testa buono eh vabbè stanno di mente stanno di mente questo qua sta ma che se ne frega tanto questo è buono non so che mi aiuterà sicuramente madonna ho visto una batteria prendi la porca troia le prime attenzioni le prime attenzioni ah eeeh giovenizia qui ti sei sicuro per arrabbiare aspetta per arrabbiare ma aspetta le manette si illuminano eh si ma provate a cliccare ecco bisogna ci stava la croce di gesù oi ok adesso arrivo più verde devo solo richiudere ecco arrivo non esisti esisti ok vediamo un po' che c'è qui che cazzo è? che cazzo è? chi è? chi è? chi è? pigmei dice pigmei? pigmei? eeeh eeeh che cazzo fai tu questi cazzo? oi butts nel plexiclass porca troia porca troia porca troia ma porca troia aaaaaaaaaaah ah ah pigmei? pigmei! ok sottoletti 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 chiuditi sesamo eh la croce di cielo guarda sopra eccolo Oddio, 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 dove siamo? Non ti alzare, dietro, oddio, madonna, è buono, I want to help you, dammi la mano, dammi la mano, mi da un cazzotto, non so perché questo è il mio, ma non ti vedi? Rai, siamo con le car- Are you my friend? Sì, 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 le carni da macello appena viene qui, lo lasciamo a lui, esatto, per ora sono tuo amico, poi dopo... Ma prima non c'è l'ho visto l'italiano, ho detto una cosa in inglese, ma sì, ma è chiaro che non so ma... Ma c'è l'ho detto, ma devi tornare là, quindi Ma i cazzi, i cazzi voglio aprirli, perché s'ho... Ma io non voglio ritornarci i cazzi li apro sempre That's what I have a Nietzsche Come Giseppe, esimo Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ero qui Siete di trasporta quando... Oh, gli stiamo tozzando Porca tu, e mi sono chiuso col pazzo che giusta la stanza Quel pazzo, col poveri e locchi, ci hanno tagliato tutto Ma dove? A-AAA-AAH Ma dove? Ti stai facendo male? Ecco, vai! Ma ti ha lasciato quel bel fustaccio della stanza di uso! No Riccardo, ti saliti, ti saliti! Oddio, oddio, oddio! Mancata, mancata! Qua non mi prendi, basta! No, stai facendo giro! E no, dietro, dietro! Le manette! Non devo urlare questa manetta! È fulsante! Chiudi, chiudi! Eh no, ma che chiudi! Sì, perché non lo sapevo! Ma quello sta facendo giro, no? Stupido! Oh, già non mi piace! Già sento le urla! Se le leggiamo più grande! Non so nemmeno che cosa dice! Porca puttana! Ma perché non mi conveniva stare là, che non poteva passare? Che cazzo hai fatto? Eh, no, ya, poverini! Ma che ne so, sto uccidendo la gente! Ma che mi serve questo lettino? E' un'ora, tipo, si è per la... Un'ora poledetto! Ma io, ma che cazzo è un enigma? Ma che enigma? Se levano i polizioni dalle fornalle! Stavano bruciandole! Ah, vabbè, stai facendo... Ma questa è mostrando nella porta! Mostrando nella porta! Ah, nonno! Ma questo è il nonno! Ma questo è quello che mangiava! No, 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 no! Sì, però, però... Mi piace questo cazzo! Bruciami! Ah, è vero! Ma questo è quello di Scherium! Tu stai lì! Ah, sì? Vabbè! No, 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 no! Sì, sì, sì! Sì, vabbè, questo qua è diventato brussi via! Sì, è diventato giustissimo una! Ma sì, sono giusto che si sfonda la porta! Non è che stiamo bruciando acqua! Padre Pio! Padre Pio! Ma perché? Non ne basta uno di quadro! Ma cioè, ma copia e incolla proprio! No, ma a parte! Non ne basta uno di quadro! Cioè, no, la devozione, capito? Con questo è per 8! Guarda, questo era mio nonno! Per 6! Questo era mio nonno! Quello era Padre Pio! No! Eeeh... Non si sa come! Ah! Ah, ah, ah! Sei pazzo! Si sape un cazzo! Ma lo pigliamo lo stesso! Lei incelo, come ci ha scritto il segreto? Di Padre Pio! Il segreto per essere preti! Vi è fatto! Eh, che madonna mia! Una scala! Ah, una scala! Ah, la miseria! Ah! Vedi, vedi, vedi! Trovi la radio con l'abito a fianco! Vabbè, perché loro prima di morire tolgono un segno! Eh già! Perché pensano, magari qualcuno gli servirà un'abito! Eh giusto! Si sta scaricando! Anche io lo farei! Si sta scaricando! Che fottuto ancora, madonna! Dietro! 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 Porca puttana! Non c'è una cosa! Non c'è una cosa! Non c'è una cosa! E invece ma c'è! Io già inizio a correre! Ma forse devo passare di qua! Ma... C'è io... Ah, ecco! Ah, ecco! Ecco la libreria del demonio! Non so dove cazzo sto andando! Eh, vabbè! Vabbè! Eh, vabbè! Eh, vabbè! Eh, vabbè! Eh, che ne so! Eh, mi so... No! No! E' la madre! Dove stavamo prima! E' un bel... E' un bel... Eh, vaffacule! La finezza! Siamoci coni, eh! Teniamo la karma! A dove cazzo siamo andati? Mi stiamo a prendere! Eh, prima! Ssshh! Però nell'armadetto c'è luce! Ssshh! Sshh! Sshh! C'è luce perché sto metterlo! Ah, hai ragione! Cazzo posso... L'armadetto è che mette luce pro! Ah, ahah! E' radioattivo! Il sole sarà su di tutel armadetto! Non so! Forse posso uscire, però! Ma ho la sensazione che appena esco! Perché? 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 Perché devo uscire! Certo che non prova nemmeno l'aprita da questa porta! E' davanti scontata! Ha perso le speranze! Lo ritrovi davanti adesso! Eh! Corvabù! Sta facendo le pulzette! E qua siamo venuti, eh! Eh, ma allora dove cazzo dovevamo passarti? Da dove? Ah! Farsi da dove lui è uscito! No! Sì, sì! Guarda! Entri in questa camera! Riesci! Sì, è una camera! Esci, esci, esci! Esci! No, no! Da dove? Esatto! Potersi che è comparsa una porta segreta! C'era una camera con un buco! No! Andrea! Da dove è venuto il bastardo! Sì, sì! Questa... Continuo ad aprirla! Ma in realtà... Allora da qua devo passare! Sta lui qua, ma devo passare da qua! Bastardo! Dove sei? Tanto lo tiro di faccia! Lo so! Vabbè, dai! Forse non ho ancora visto! Ah! Allattate! Oh! Ma dove? Allattatevi! 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 Montatevi come una cavalla in calore! Ah! Sono un po' vagina! Che di qua la possa passare! Ah! Che non ti affare! Togli! Che devo togliere? Ah! Aspetta! Ricarica! Ma volete scassare questo moscelino del cazzo? Non è tutto! Ah! Madonna! Ah no! Pensavo che stavano... Non si ferme! Aspetta c'è una fila! Allora guarda! Radio è più da fianco! Chiudi il gas e per accedere... Qual è il gas? Questo è gas! E dove sta il gas? Tutto è chiaro! Aspetta! Devo trovare la radio! No! La batteria! La radio! Vabbè! Qualcuno ha bucato già tutta la zona! Forse... Eh beh! Dove cazzo stai andando? Tipo come di quella legge... Mundo! No! Questo qua! Aspetta! Vediamo un po'! Vernice! Ah! Do come... Come montare una mucca! Credo che... Forse non è il momento giusto per faccere una... No ma guarda che si blocca il gioco con la legge! Ah! Ma lo so no! Dico... Sì però... Dai! Mi dici... Ma non lo gioco! Giocatore non credo che blocca il tempo! Ho visto... Ah! Madonna! Ma come... No ma mi sai questo... Ma sì perché... E poi c'è... Non è il mio amico! Non è il mio amico! Ma lo guarda! Lo guarda! Lo guarda! Che sta facendo? Sta pensando! No sta guardando un muro! Si sta preparando perché apri con la porta! Ma siamo un fondo! Però... Ma si, come... In...